Benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui parleremo di Java Stream. Gli stream in Java sono una nuova serie di API che permettono di andare ad elaborare dei dati seguendo un paradigma che è il paradigma funzionale, ovvero quello in cui applico ai dati una serie di funzioni una dopo l'altra finché li trasformo in quello che effettivamente voglio andare a ottenere. Che cos'è uno stream? Uno stream in sé è una sequenza di elementi che vengono generati da una sorgente e questa sequenza supporta l'applicazione di una serie di operazioni o funzioni. Queste operazioni sono definite in termini di oggetti comportamentali, quindi oggetti per i quali viene chiamato un metodo e questo metodo viene chiamato per ogni elemento che deve essere elaborato. Alcune caratteristiche di base che sono fornite dall'API per lo stream in Java sono il pipelining, ovvero la possibilità di avere una sequenza di operazioni che vengono applicate eventualmente e contemporaneamente su elementi successivi, l'internalizzazione delle iterazioni, quindi non ci sono esplicitamente dei loop per andare a elaborare tutti gli elementi della sequenza, ma io specifico esclusivamente l'operazione e automaticamente, implicitamente, questa operazione viene applicata su tutti gli elementi dello stream. E soprattutto quella che si chiama la valutazione, diciamo, lazy, pigra, ovvero le operazioni vengono eseguite soltanto quando sono necessarie, ovvero finché non c'è qualche operazione terminale che richiede il risultato e a questo punto viene scatenata tutta la sequenza di operazioni, quindi la lettura dalla sorgente e tutte le operazioni che vengono eseguite. Quando parliamo di pipelining parliamo di una sequenza di operazioni che possono essere applicate contemporaneamente su elementi successivi, quindi quando il primo elemento viene generato viene eseguita la prima operazione e poi la seconda operazione viene eseguita contemporaneamente alla prima ovviamente sui due elementi successivi, finché man mano che gli elementi percorrono questa catena di operazioni intermedie raggiungono quella che è un'operazione terminale che alla fine utilizza o elabora in qualche modo il risultato. Ad esempio, quando noi abbiamo una sorgente, questa sorgente potrebbe essere presa da una sequenza di elementi, ad esempio un array, un elenco di parole, di elementi, e quindi lo stream è costituito da tutti questi elementi. Le operazioni intermedie cosa fanno? Operano su questi elementi. Ad esempio, c'è un'operazione che si chiama Sorted che permette di andare a ordinare gli elementi in base all'ordinamento naturale, in base a un comparatore, quindi posso avere diverse strategie. Posso avere operazioni che vanno a limitare gli elementi, ad esempio c'è un'operazione che si chiama Limit che permette di andare a ridurre il numero di elementi, per cui se prima ordino gli elementi e poi faccio Limit 4, sostanzialmente andrò a prendere i primi quattro elementi dopo l'ordinamento. E poi ci sono operazioni terminali, che cosa fanno? Che consumano quello che è il risultato. Un'operazione terminale molto banale è quella che si chiama Foriche, per cui per tutti gli elementi che sono stato il risultato delle operazioni intermedie precedenti viene eseguita una qualche operazione. Nell'esempio che vediamo qua viene chiamato il metodo println, passandogli il risultato, l'elemento che è arrivato all'operazione finale. Iniziamo a vedere quali sono gli elementi, quindi quali sono i metodi che ci permettono di andare a costruire uno stream, quindi definire la sorgente degli elementi, quelle che sono le operazioni intermedie di elaborazione e poi quelle che sono le operazioni finali. Iniziamo da quelle che sono le operazioni di sorgente. Io posso andare a costruire uno stream utilizzando tre approcci principali. Posso utilizzare il metodo stream di Arrays, che sostanzialmente restituisce uno stream a partire degli elementi che stanno in un array. Posso utilizzare il metodo stream che è definito all'interno dell'interfaccia Collection e quindi si applica a tutti i contenitori di gruppo. È un metodo di default, quindi è stato aggiunto poi successivamente rispetto ai metodi originalmente definiti in Collection, quindi nelle prime versioni di Java. Oppure c'è un metodo che si chiama of della classe stream, che permette di andare a prendere una sequenza di elementi, quindi quelli che io passo come parametri, ed essendo un numero variabile di parametri con i puntini, quindi sostanzialmente io posso passare a questo metodo sia una lista di parametri che direttamente un array di parametri, quindi sostanzialmente questo of è equivalente all'array.stream della classe Arrays. Ad esempio, utilizzando il metodo stream della classe Arrays io posso definire un array e poi fare Arrays.stream e passare questa array di stream e stamparli tutti. Oppure, in maniera del tutto analoga, posso chiamare stream.of e poi passare un elenco di valori che verranno messi dentro lo stream. Ovviamente gli stream si basano su elementi che sono omogenei, ovvero tutti gli elementi di uno stream devono essere dello stesso tipo, come tutti gli elementi di un array hanno lo stesso tipo, esattamente per gli elementi di uno stream. Ovviamente vale il polimorfismo, per cui io posso sostituire a un elemento dello stream un oggetto che implementa una classe derivata di quella di partenza. Terzo metodo è quello di avere il metodo di utilizzare il metodo stream della classe Collection, per cui se ho ad esempio una LinkedList a cui aggiungo degli studenti, posso utilizzare il metodo stream per andare a creare per l'appunto uno stream di oggetti di tipo studente. Tutti questi sono dei meccanismi che mi permettono di andare, partendo da un insieme di elementi che io ho già a disposizione, creare quello che è uno stream. Quindi, dato un array o una collezione, io posso creare uno stream che è in grado di andare ad elaborare i propri elementi. Esiste un altro modo di costruire degli stream, ovvero in maniera generativa. Esiste un metodo che si chiama generate della classe stream che accetta come parametro un supplier e quindi ogni volta che è necessario produrre un nuovo elemento dello stream si chiama il metodo get del supplier che viene fornito. C'è un altro meccanismo che è un po' più semplificato che si chiama iterate, in cui io vado a fornire un oggetto di partenza chiamato il seme e poi un operatore unario, ovvero una funzione che prende l'elemento precedente e restituisce il prossimo. Oppure, sostanzialmente per motivi di test, io posso utilizzare il metodo empty della classe stream che mi permette di generare uno stream vuoto, ovvero senza elementi. Ovviamente non ha molto senso se non per andare a verificare che le nostre sequenze di operazioni funzionino correttamente anche in presenza di uno stream vuoto. Per cui, se ad esempio voglio andare a generare una sequenza di numeri casuali, posso chiamare il metodo generate a cui passo un supplier che ogni volta che viene chiamato restituisce il valore generato dal metodo random di math moltiplicato per 10, quindi è un numero sostanzialmente compreso tra 0 e 10. Oppure, se voglio andare a generare tutti i numeri pari, parto da 0, il seed, e poi per ogni valore restituisco il valore più 2. attenzione, tutti questi meccanismi, quindi sia generate che iterate, generano degli stream che sono infiniti. Quindi, sostanzialmente, se io non vado a mettere un meccanismo che limiti il numero di elementi che sono generati, questi stream continuano a generare nuovi elementi all'infinito e quindi la mia elaborazione non terminerà mai. I metodi che abbiamo visto finora e la classe stream sostanzialmente operano su tipi da definire. Infatti stream è definito come una classe generica. A volte, abbiamo visto parlando delle collezioni, può essere poco efficiente utilizzare come elementi degli oggetti. a volte è più efficiente utilizzare dei tipi primitivi. Per questo motivo, oltre alla classe stream, sono state definite delle varianti specializzate della classe stream che permettono di trattare non degli oggetti, ma bensì dei tipi primitivi. Per cui abbiamo double stream, in stream e long stream, che permettono di andare a elaborare degli stream di tipi primitivi, sostanzialmente andando a ridurre le operazioni che richiedono boxing e unboxing e riducendo l'occupazione di memoria se questi oggetti wrapper devono essere creati più volte. Là è possibile convertire uno stream di oggetti in uno stream di tipo primitivo utilizzando il metodo mapToDouble, mapToInt o mapToLong, che permettono quindi, dato uno stream di un certo tipo di oggetti, di andare a estrarre un valore double, intero o long e poi proseguire le operazioni successive utilizzando i valori primitivi invece degli oggetti. Queste tre classi definiscono metodi aggiuntivi, ad esempio definiscono un metodo di generazione che si chiama range che ha due parametri di inizio e di fine e quindi sostanzialmente genera una sequenza di numeri da A. Ovviamente per i valori, per gli stream numerici esistono delle operazioni terminali in più rispetto agli oggetti normali, ad esempio, visto che questi sono tutti valori numerici, c'è un'operazione finale che si chiama average. In questi esempi possiamo vedere come si comportano le due alternative. Nel primo caso viene costruito un int stream utilizzando il metodo di generazione. Il metodo di generazione sostanzialmente, analogamente a quanto abbiamo visto prima, genera un numero casuale compreso tra 0 e 100. Dopodiché uso questo stream, limito il numero, vado a calcolare il massimo e recupero il risultato come un intero. Il risultato di max è un valore optional perché potenzialmente se il mio stream è vuoto max non genera nessun valore. Nell'altra variante uso uno stream, a questo punto, di integer e il metodo di generazione sostanzialmente è esattamente analogo all'altro. A questo punto chiamo la sequenza, vado a limitare il numero a 10, calcolo il massimo, devo andare a specificare in base a come, in base a quale ordinamento calcolo il massimo, quindi vado a dire l'ordine naturale e poi vado a chiamare il metodo get che mi restituisce l'oggetto integer. In termini di tempi di esecuzione, il primo richiede circa 24 nanosecondi per ogni singolo elemento da valutare. Il secondo ne richiede 30, quindi in pratica ho una differenza che corrisponde a circa 6 nanosecondi che sono dovuti a operazioni di boxing e unboxing. Sostanzialmente unboxing perché qui devo andare semplicemente a leggere il valore. Ovviamente nel momento in cui io devo andare a generare nuovi oggetti, questo overhead dovuto all'uso di oggetti wrapper invece dei tipi primitivi inizia a essere molto più pesante. Parliamo a questo punto di quelle che sono le operazioni intermedie. Qui ho riepilogato quelle che sono le operazioni principali, quindi abbiamo la possibilità di andare a filtrare gli elementi in base a un predicato, limitare il numero di elementi che vogliamo andare a elaborare. Possiamo saltare un certo numero iniziale di elementi, possiamo ordinare gli elementi andando a fornire un comparatore opzionale, possiamo andare a eliminare i duplicati utilizzando d'instinct, oppure possiamo fare un'operazione di mapping, ovvero dato un elemento che è presente nello stream possiamo calconare un nuovo elemento che andremo a mettere nello stream a valle. Per cui possiamo prendere uno stream di un certo tipo e produrre uno stream di un tipo diverso, dove il tipo diverso è quello che viene prodotto a partire dagli elementi dello stream in ingresso. I primi tre elementi sono quelli che ci permettono di andare a fare un filtraggio molto molto base. Distinct è un metodo che, prendi gli elementi in ingresso, va a scartare tutti i duplicati. Limit invece sostanzialmente prende un certo numero di elementi e scarta tutti quelli che seguono. Ovviamente Limit è utile se noi abbiamo uno stream infinito e noi vogliamo andare a limitare il numero di elementi che vengono effettivamente generati. E poi c'è Skip che sostanzialmente fa un'operazione opposta a Limit e quindi invece di prendere i primi n elementi salta i primi n elementi. Ovviamente Skip, Distinct, e buona parte delle operazioni che abbiamo visto, non funzionano bene se noi abbiamo uno stream infinito perché non ci limitano il numero di elementi. Un filtraggio un pochettino più sofisticato è possibile farlo utilizzando il metodo Filter a cui noi passiamo un predicato. Un predicato che cos'è? È una delle interfacce funzionali a cui abbiamo accennato in precedenza che sostanzialmente prende come parametro un oggetto di tipo T e ci restituisce un valore booleano, vero o falso. Se il valore è vero, l'elemento viene fatto passare oltre alle operazioni successive, se è falso viene scartato. Quindi, ad esempio, se noi abbiamo un stream di studenti, possiamo filtrare gli studenti di genere femminile con questo metodo isVemail e poi stamparli. Ovviamente, invece di utilizzare un method reference, posso utilizzare una lambda se l'operazione che voglio fare non è già inclusa all'interno di un metodo che mi restituisce un valore booleano, ma voglio fare un'operazione un po' più complicata. Ad esempio, in questo caso, vado a prendere il nome degli studenti che mi vengono passati e vado a vedere se il nome è uguale a John. In questo caso lo faccio passare, altrimenti scarto tutti quelli che hanno un nome che non è John. Queste sono operazioni che sostanzialmente mi filtrano e quindi vanno a selezionare gli elementi che vengono passati oltre. Un'altra operazione che può essere utile è quella di ordinamento in cui sostanzialmente non c'è nessun filtraggio, ma semplicemente gli elementi vengono messi in ordine. Se io passo nessun parametro, quindi chiamo sorted senza parametri, quello che viene fatto è un'operazione di ordinamento in base a quello che è l'ordinamento naturale degli elementi e quindi per applicare questa operazione di ordinamento gli elementi devono avere un ordinamento naturale, quindi devono implementare l'interfaccia comparable, oppure posso utilizzare il metodo sorted da cui passo un comparatore. A questo punto gli elementi non necessariamente devono avere un proprio ordine naturale, ma verrà utilizzato il comparatore per andare a ordinare gli elementi. Altra operazione che io posso andare a fare è quella di mapping, ovvero ho degli elementi dello stream, applico un'operazione e faccio corrispondere a ogni elemento dello stream un elemento che calcolo in qualche modo. Il caso più semplice che vediamo qua è quando io ho dato uno stream di studenti vado a chiamare ad esempio il metodo getFirst, quindi che cosa ottengo? Ho uno stream di oggetti tipo studente, l'operazione map che cosa fa? Prende uno studente e restituisce il suo nome. Il suo nome sarà una stringa, quindi in ingresso all'operazione di map ho uno stream di studenti, in uscita ho uno stream di stringhe che poi con questo for each vado a stampare. L'operazione di mapping può anche essere utile per andare a trasformare uno stream di oggetti in uno stream di tipi primitivi, per cui mapToInt, mapToLong e mapToDouble permettono di prendere un oggetto dello stream del tipo T e andare a calcolare un valore intero, long o double a partire da questo oggetto. A questo punto ho in ingresso uno stream di studenti, stringhe, quello che volete e ho in uscita uno stream di uno di questi tipi primitivi. Ad esempio stream di studenti, faccio un'operazione di mapping in cui vado a estrarre il nome, quindi ho uno stream di stringhe e poi faccio un'altra operazione di mapping su un intero, quindi quello che ottengo è uno stream di tipi primitivi che corrispondono alla lunghezza dei nomi degli studenti e poi li stampo. Veniamo ora a esaminare quelle che sono le operazioni terminali, ovvero quelle che dopo le varie trasformazioni consumano gli elementi di uno stream. Ci sono alcune operazioni sostanzialmente molto semplici che sono quelle che vediamo in questo slide. si tratta sostanzialmente di find any che restituisce sostanzialmente un qualunque elemento dove l'ordine non conta e find first che restituisce il primo elemento dove invece l'ordine viene considerato. Qual è la differenza tra i due? Beh, sostanzialmente che se abbiamo delle elaborazioni che possono essere svolte in parallelo è possibile che il primo elemento che viene prodotto dalla sorgente venga elaborato con più ritardo rispetto al secondo elemento. Find any ne prende o uno o l'altro diciamo quello che arriva per primo. Find first invece aspetta che venga elaborato il primo elemento e va a recuperare quello. Entrambi restituiscono un optional perché in pratica è possibile in presenza di uno stream vuoto oppure di uno stream che ha dei filtri che eliminano tutti gli elementi che nessun elemento venga effettivamente restituito. Ci sono poi due operazioni terminali che sono min e max che vanno a restituire il minimo o il massimo tra tutti gli elementi che arrivano e anche questi restituiscono un optional. Questi due metodi prevedono l'utilizzo di un comparatore che permette di andare a scegliere qual è il criterio con cui andare a determinare il minimo o il massimo all'interno degli elementi che scorrono nello stream. Count che semplicemente ci restituisce il numero di elementi vi faccio notare che Count restituisce un valore long noi siamo abituati con gli interi che utilizzano degli indici di tipo int ecco Count utilizza un long perché gli stream sono pensati per elaborare grandissime quantità di dati e quindi è possibile che un int non sia sufficiente per andare a memorizzare il numero di elementi gestiti da uno stream e poi abbiamo il for each che abbiamo già visto negli esempi precedenti che sostanzialmente riceve come parametro un consumer che verrà utilizzato ogni volta per andare a consumare tutti gli elementi che vengono elaborati da uno stream che raggiungono questo terminale volendo possiamo andare a fare una selezione in base ad alcuni criteri per cui possiamo andare a verificare se un qualunque elemento dello stream che arriva corrisponde a un certo predicato AnyMatch fa proprio questo riceve come parametro un oggetto di tipo predicate e viene utilizzato per andare a verificare se almeno un elemento di quelli che transitano fino alla fine del nostro stream verifica la condizione sostanzialmente al primo elemento che soddisfa la condizione il nostro AnyMatch restituirà vero AllMatch invece va a verificare che tutti gli elementi che arrivano in fondo al nostro stream effettivamente verificano la condizione specificata dal predicato quindi deve esaminare tutti gli elementi e una volta che tutti gli elementi fino all'ultimo prodotto dalla nostra sorgente che arrivano in fondo allo stream soddisfano il criterio allora restituisce True altrimenti restituisce False NonMatch invece va a verificare che nessuno degli elementi verifichi la condizione i due sono ovviamente uno il duale dell'altro quindi questo nel momento in cui trova un elemento che non soddisfa la condizione ci restituisce False altrimenti aspetta di verificare fino in fondo il NonMatch invece fa l'operazione inversa ovvero verifica che nessuno degli elementi dello stream effettivamente risponda alla condizione specificata dal predicato quando andiamo a considerare le operazioni terminali o intermedie possiamo classificarle in due grosse categorie quelle che sono stateless e quelle che sono stateful le operazioni stateless sostanzialmente non hanno bisogno di stato ovvero non hanno bisogno di memoria aggiuntiva per essere svolte un esempio tipico è l'operazione di map o di filter map prende un elemento calcola la sua corrispondenza e lo produce filter verifica la condizione e fa passare o meno l'elemento quindi non è necessario utilizzare memoria aggiuntiva e poi ci sono operazioni stateful che invece hanno bisogno di un po' di memoria aggiuntiva per andare a svolgere le loro operazioni ad esempio l'operazione di limit permette di andare a limitare il numero quindi io ho bisogno quantomeno di un contatore che mi permetta di limitare il numero di elementi sorted è un altro esempio per ordinare gli elementi io devo andare ad accumularli e mantenerli in ordine e ovviamente non posso rilasciare il primo elemento finché non ho esaminati tutti perché l'ultimo elemento che mi arriva potrebbe essere il primo secondo l'ordinamento questi due esempi ricadono in due sottocategorie bounded e unbounded bounded sono le operazioni che hanno bisogno di informazioni di stato quindi dati aggiuntivi che però sono limitate ovvero la quantità di informazioni necessarie non dipende dal numero di elementi mentre invece unbounded sono le operazioni che richiedono memoria aggiuntiva e questa memoria tendenzialmente è proporzionale al numero di elementi che devono essere elaborati parlando di operazioni terminali e ce ne sono due particolarmente interessanti che non abbiamo menzionato prima che sono le operazioni di reduce e di collette che rispettivamente sono una bounded e l'altra unbounded che cosa fanno queste due operazioni allora reduce sostanzialmente prende due elementi un elemento iniziale e ogni nuovo elemento che arriva nello stream li combina e produce un nuovo elemento quel nuovo elemento verrà poi utilizzato e combinato con il prossimo elemento dello stream quindi il risultato sostanzialmente è ridurre una sequenza di elementi dello stream in uno solo andando a combinarli due alla volta l'operazione di collect invece è un po' più complicata perché le permette di andare a fare un'operazione in cui vado a mettere degli elementi normalmente all'interno di un collettore ovvero un oggetto che può ospitare tanti elementi è unbounded perché ad esempio una tipica operazione di collect è quella di andare a mettere tutti gli elementi all'interno di una lista ovviamente la memoria della lista dipende da quanti elementi ho all'interno della mio stream vediamo un po' più nel dettaglio l'operazione di reduce reduce permette di operare su due elementi un valore iniziale che è quello che è il semi iniziale delle operazioni e poi un'operazione di binary operator che cosa fa fonde l'elemento corrente con il prossimo elemento della lista l'elemento corrente qual è inizialmente è il valore identità e successivamente sarà risultato dell'operazione di merge precedente per cui ad esempio se io prendo uno stream che contiene i miei studenti vado a prendere il nome di battesimo dopodiché vado a prendere la lunghezza delle stringhe e poi faccio un'operazione di math max ovvero l'operazione di combinazione è un'operazione di calcola il massimo tra i due valori partendo ovviamente da zero quindi a un certo punto prenderà il massimo tra zero e il primo elemento e questo sarà un risultato il risultato a questo punto verrà combinato con la lunghezza dell'elemento successivo e verrà preso il massimo e via di questo passo volendo rappresentare in maniera grafica data questa operazione possiamo immaginare di avere una sequenza di valori che arrivano e questo è il nostro stream partiamo dal valore iniziale che viene chiamato identity e applichiamo l'operazione di merge sull'identity e sul primo elemento del nostro stream il risultato sarà nel nostro caso nell'esempio specifico 4 a questo punto andrò a fare l'operazione di max tra questo risultato e il prossimo elemento successivamente sempre l'operazione max che è l'operazione di merge tra il risultato e l'elemento successivo e poi un'altra volta tra il risultato e l'elemento successivo e via di questo passo finché raggiungo l'ultimo elemento del mio stream in generale il del valore di partenza viene chiamato un valore di identità perché dovrebbe essere un valore che è identità per l'operazione che di merge che viene applicato nel caso del max avendo dei valori interi maggiori di 0 il valore 0 è il valore identità cioè qualunque valore vada a utilizzare qua max tra questo valore e 0 ci darà sempre quel valore se io qui metto un valore che non è un'operazione di valore di identità per l'operazione che vado ad eseguire il rischio è che l'identità venga trasferita in avanti e quindi sia risultato finale e quindi la mia operazione di reduce sostanzialmente non faccia altro che darmi come risultato quello dell'identità questa operazione come vi dicevo è un'operazione bounded perché di volta in volta per ogni iterazione ho bisogno di un unico valore quindi il valore corrente e quindi posso eseguire questa operazione questa operazione oltre ad essere bounded è facilmente parallelizzabile infatti per gli stream esiste un metodo che si chiama parallel che sostanzialmente cosa fa prende lo stream e lo suddivide in tanti stream paralleli ognuno elaborato in parallelo rispetto all'altro quante volte sostanzialmente il numero di elaborazioni parallele corrisponde al numero di core della cpu su cui viene eseguito il codice tanto per darvi un'idea in termini di parallelizzazione di un'operazione di reduce se immaginiamo di avere due cpu il nostro stream verrà diviso in due sotto stream e per entrambi andrò a fare operazioni di merge di volta in volta a partire ovviamente dall'identità alla fine quando ho completato i due sotto stream farò un'ulteriore operazione di merge tra i due e andrò a calcolare il risultato finale ovviamente questa operazione di parallelizzazione potenzialmente ci può dare dei risultati molto interessanti e quindi prestazioni molto migliori rispetto alla versione semplice e lineare un'altra operazione terminale analoga a quella di reduce che abbiamo appena visto è l'operazione di collect che però rispetto alla reduce è un po' più complicata perché permette di andare ad accumulare i risultati all'interno di un oggetto che è molto più complicato di un valore che viene combinato a coppie qual è l'idea? è che io devo fornire tre elementi che definiscono quella che possiamo chiamare una ricetta per andare a fare l'accumulazione il primo elemento è un supplier ovvero un metodo un oggetto di tipo supplier che costruisce l'oggetto in cui vado ad accumulare i risultati una funzione di accumulazione quindi quello che si chiama una by function che riceve due parametri e va a spiegarmi come faccio l'accumulazione di ogni elemento dell'array all'interno dell'oggetto di accumulazione e un combiner che viene sostanzialmente utilizzato quando devo andare a combinare avendo più stream paralleli due oggetti di accumulazione tra di loro per andare a dare un risultato unico nel caso specifico che cosa abbiamo utilizziamo noi come oggetto di accumulazione questo che è un oggetto molto molto semplice che contiene un unico attributo intero n che andrà a contenere sostanzialmente la somma dei valori che vado a esaminare all'interno del mio stream immaginiamo di avere uno stream di interi il mio supplier cosa fa mi crea un nuovo oggetto di tipo A che qui vedete che utilizzo un method reference con l'operatore new l'accumulazione avviene tramite questa lambda che riceve l'accumulatore e il prossimo elemento e semplicemente va a sommare all'attributo n dell'accumulatore il valore del prossimo elemento dello stream il combinatore che eventualmente in caso di ripeto in caso soltanto in caso di stream paralleli viene utilizzato fa la somma dei valori n dei due accumulatori volendo andare a rappresentare che cosa avviene in maniera grafica possiamo avere il nostro stream di elementi interi la prima cosa che facciamo è di sfruttare il supplier per andare a creare l'oggetto di accumulazione e successivamente possiamo andare a sfruttare il nostro metodo di accumulazione per andare a sommare il primo elemento al valore contenuto all'interno del nostro accumulatore e via di questo passo andiamo a prendere il prossimo elemento lo sommiamo prendiamo quello successivo sommiamo anche questo andiamo a prendere ancora un altro elemento e lo sommiamo perché questa è l'operazione che fa il nostro accumulatore una volta che abbiamo il nostro accumulatore possiamo avere necessità di combinare gli elementi tramite quello che è il combiner e quindi immaginando di avere più parallel stream ci ritroviamo a sommare i valori n di più accumulatori o nel caso in cui non abbiamo nessun parallel stream sostanzialmente abbiamo già il risultato un altro esempio di collect è quello che prende gli elementi di un array di uno stream e li mette all'interno di una lista qui ad esempio il supplier in questo caso è un linked list 2.2.new quindi mi creano un nuovo linked list in cui andare a fare l'operazione l'accumulatore è il metodo add della lista quindi prende l'elemento prossimo elemento nel nostro stream e lo aggiunge e il combiner nel caso specifico è il metodo add all che dato una lista aggiunge tutti gli elementi dell'altra lista a quella di destinazione schematicamente il comportamento è quello che vediamo qua quindi inizialmente il nostro supplier produce una linked list e poi successivamente l'accumulatore che corrisponde nella chiamata del metodo add della lista aggiunge i vari elementi all'interno della nostra lista e alla fine in presenza di altri stream paralleli viene chiamato il combiner che aggiunge tutti gli elementi dell'altra lista alla lista corrente e quindi il risultato sarà una lista che contiene tutti gli elementi dello stream quando abbiamo a che fare con gli stream è bene ricordare che il meccanismo permette di andare a fare quella che si chiama una lazy evaluation ovvero le elaborazioni dei dati vengono svolte soltanto quando è necessario quindi prima di tutto andiamo a costruire quella che è la pipeline ovvero tutta la serie di operazioni che vengono fatte eventualmente poi svolte in parallelo e successivamente nel momento in cui viene invocato per la prima volta un'operazione terminale allora viene eseguito tutto e quindi si va a richiamare il primo elemento della sorgente verrà eseguito la prima operazione dello stream e via di questo passo per questo motivo quando noi dobbiamo andare a utilizzare la collect il primo parametro che passiamo non è l'oggetto accumulatore perché in questo caso l'avremmo già creato prima ma viene chiamato viene passato un supplier che nel momento in cui deve essere eseguito l'operazione di collect crea l'oggetto di accumulazione e questo permette una vera e propria valutazione pigra ovvero soltanto del momento in cui effettivamente necessario viene creato l'oggetto di accumulazione e poi verrà successivamente per ogni elemento dello stream chiamato l'elemento di accumulazione una nota importante da fare parlando dei due operazioni terminali che abbiamo descritto per ultime ovvero la collect e la reduce è che la reduce tendenzialmente è bounded ovvero utilizza una quantità di memoria limitata e che non è sostanzialmente proporzionale al numero di elementi c'è sempre un elemento che di volta in volta viene ricalcolato mentre invece la collect tendenzialmente è unbounded ci possono essere dei casi in cui è bounded se semplicemente faccio un conteggio ma in linea di principio se pensiamo al caso della lista è unbounded perché la lista cresce e le dimensioni occupate sono sostanzialmente dipendenti dal numero di elementi che io vado ad aggiungere all'interno della lista e quindi devo andare a utilizzare un meccanismo ad hoc per andare a combinare diversi calcoli che vengono fatti in più stream paralleli all'interno all'interno